Nella vita di tutti i giorni usiamo i numeri molte volte. Per esempio, quando dobbiamo pagare in un negozio, contare quante persone ci sono, dire una data o un'ora. Quindi, oggi vediamo insieme come funzionano i numeri in italiano! Ciao a tutti e benvenuti! Sono Mattia, di Lingua Franca. In questo video vedremo i numeri cardinali, mentre in uno dei prossimi video vi spiegherò come usarli per parlare di date, soldi, quantità e molto altro ancora. Quindi, se siete nuovi su questo canale, ricordatevi di iscrivervi per non perdervi i prossimi video! Cominciamo da qualcosa di facile, i numeri cardinali da 0 a 10. Per rendere più utile questo video, lascerò qualche secondo di silenzio dopo ogni numero. Vi consiglio di ripetere ad alta voce cercando di imitare la mia pronuncia. Tutto chiaro? Iniziamo! Fino a qui, nessun problema! La prossima parte è leggermente più difficile, ma si può fare! Dall'undici al sedici, i numeri sono undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici. Come vedete, iniziano tutti con una parte molto simile al numero delle unità e terminano tutti con dici, che assomiglia molto a dieci. Dal diciassette al venti, i numeri sono Questi tre numeri funzionano al contrario di quelli prima. Cominciano con dici e finiscono con il numero delle unità. Arrivati a questo punto, diventa di nuovo facile. Dal ventuno al ventinove, i numeri sono Ventuno, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque, ventisei, ventisette, ventotto, ventinove. Vedete? Tutti quanti cominciano con venti e finiscono con il numero dell'unità. Le uniche cose da notare, ma saranno uguali per tutte le altre decine, sono queste. I numeri con l'uno e con l'otto non hanno la i di venti e il numero con il tre si scrive con l'accento. Ora proviamo a vedere se avete capito. Per i numeri da 30 a 39, provate prima a dirli voi e poi li dirò io e voi vedrete se li avete detti i giusti. Bene, cominciate! Come è andata? Li avete indovinati tutti? Benissimo! Da qui in avanti è facilissimo fino a cento. Vediamo solo l'inizio di ogni decina. E con questo arriviamo al cento. Anche qui non c'è nulla di complicato. Si riparte subito con cento uno, cento due, cento tre e così via. Quando arriviamo al cento dieci, stessa cosa. Cento dieci, cento undici, cento dodici, eccetera eccetera. Il passaggio successivo è mille, ma ormai siete pronti. Milleuno, milleventicinque, milletrecentoquarantasei. Vedete? Diventano più lunghi ma funzionano tutti allo stesso modo. Dopo abbiamo diecimila, undicimila, dodicimila. Proviamo con un numero lunghissimo, quello subito prima di centomila. Sembra uno scioglilingua, lo so, ma se lo scomponete vedrete che funziona come tutti gli altri. Prima i numeri più alti, le centinaia di migliaia, poi quelli più bassi, le decine di migliaia, le migliaia e così via. Ok, dopo passiamo a centomila, centomila e uno, centounomila, centoduemila, centoduemila, centotremilaquattro. Proviamo con un altro numero molto lungo, l'ultimo numero prima di un milione, novecento novantanove mila, novecento novantanove. Come vedete, da un certo punto in avanti, i numeri si scrivono con uno spazio. Non vi preoccupate troppo di quando succede, vi assicuro che non lo sa nemmeno la maggior parte degli italiani e in ogni caso difficilmente dovrete scrivere in lettere un numero simile. Dopo il milione, a parte questa cosa dello spazio, non cambia molto, vi dico qualche numero più alto così che possiate provare a ripeterlo. Un milione E poi continuano così, senza grosse differenze, fino ad arrivare a un miliardo. Nei commenti troverete un link a una pagina con una spiegazione scritta di tutto quello che abbiamo detto. Benissimo! Ora sapete come si conta da zero a un miliardo. Nei prossimi giorni, per esercitarvi, provate a dire in italiano tutti i numeri che incontrate nella vostra vita. Ora tocca a voi! Scegliete un numero da zero a un miliardo, facile o difficile scegliete voi, e scrivetelo qui sotto nei commenti, prima in cifre e poi in lettere. Se questo video vi è piaciuto e volete aiutarmi, ricordatevi di mettere un pollice in su qui sotto. Grazie! Ci vediamo nel prossimo video! Buon italiano a tutti! Le uniche cose da notare, ma saranno uguali... Novantan... novantanovemila... novet... No! . Grazie a tutti.